Ecco i fan che continuano a destruire il Campo Volo, dalle varie aree di parcheggio allestite ai piangoli della città. Non si ferma il serpentone umano di fan del rocker di Correggio a corsa al Campo Volo oggi per assistere al concerto evento del loro Beniamino. E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Grazie a tutti.